Ma che ha già finito eh? Ma ho pagato 26, ma che stai a scherzare eh? Lorenzo! Scusa mi hai richiuso lì? Dove studiare? Beh se ho studiato, ho studiato eh? Ma che hai studiato? Quattro anni in uno deve fare l'esame voglio dire, è già una cosa improvvisata, 47 materiche, hai studiato qua, dove stai a studiare? Ho quasi tre quarti ho studiato eh? Come tre quarti? Mezz'ora, quasi tre quarti, però me ne sono accorto, me ne sono andato, so preparciò sei anni in uno, guarda eh? Ma stai a scherzare? Ma tu che sei? Ma tu non vedi che sei? Ma mezz'ora che avrai studiato, capite? Mezz'ora, neanche tempo di metterti seduto, Lorenzo! Mezz'ora ho fatto inglese, matematica, latino, greco, greco antico, educazione, aggiustaggio, scorrimento, praticamente, purtroppo, purtroppo tecnico, l'aziale antico E' bezz'ora, vabbè, scusate, mi rendo conto, che è un concerto, non si potrebbe fare, però io ho questo obbligo, come sapete che i genitori me l'hanno lasciato, sono più tornati Ma te sta sbagliato, vabbè? Quindi io devo interrogar, sì Ma non credo Settiamo inglese, visto che puoi andare in America a studiare chitarra, vero? Ma non credo 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 Sembra che c'è una malattia Facciamo conversazione, capito? What time is it? Ma c'è lei, Lolo, c'è Che ho Tu lo sei comprata Guarda, vai Cominciamo da capo Proprio pagina 1 della conversazione Hello Lorenzo My name is James Grazie